Facebook, bella vita, champagne e selfie. Un cocktail micidiale soprattutto per chi non ha un'occupazione stabile che giustifichi questo tenore da bella vita. Cosa che non è passata inosservata all'occhio vigile dei carabinieri ai quali sono giunte numerose segnalazioni. Ed il sospetto che Sander Marku, conosciuto col nome di Sandro, albanese di 24 anni, residente nel centro storico di Fano, tenesse questo tenore di vita sproporzionato, grazie allo smercio di sostanze stupifacenti e rabbalenato alla mente. Dormiva di giorno e la notte la passavano i locali alla moda dell'Arzilla e del Lido di Fano, facendo innumerevoli selfie con l'immancabile bottiglia di pregio accanto e postandoli sul suo profilo Facebook, dove contava un migliaio di amici. I militari, nell'osservare le mosse dell'uomo nella sua vita notturna, hanno notato che mentre si tratteneva nei locali, aveva contatti molto fugaci anche con tantissime persone e soprattutto stessi locali alle stesse ore, un orologio svizzero. Il motivo era che l'albanese così facendo non aveva bisogno di contatti telefonici con i clienti, tanto sapevano dove e quando trovarlo. Anche i carabinieri infatti lo hanno trovato in compagnia di un cliente e lo hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di stupefacenti e condotti in carcere dove si trova tuttora in attesa di processo. E con la bella vita sono spariti pure gli amici su Facebook.